Alcune notizie su Ennio Morricone che possono servirti per raccontarle così nelle vacanze. Numero uno, quella che più di tutti mi fa ridere ma mi fa anche riflettere, soprattutto per gli amici, colleghi, musicisti. Una volta la Rai gli propose 10.000 euro per uno spettacolo, lui rifiutò per dirigere l'orchestra, dicendo che per il proprio paese si può lavorare gratis ma per un'orchestra ci vogliono 20-30, forse 40.000 euro. Questo già vi fa capire che tipo di personalità, estremamente onesta diciamo così, e rispettosa del lavoro altrui. Ma a parte questo piccolo scratch vi do delle notizie così a volo. Sapete che negli anni 60 ha scritto anche brani pop, ha messo le sue note, abbronzatissima, guarda come dondolo, se telefonando. Eh? Lo sapevate? Poi ha fatto anche colonne sonore molto importanti, alcune ve le dico così a livello italiano, La Piovra, o il film su Borsellino. Sensibile in certe tematiche, è sceso anche in politica, ma perché voleva introdurre e potenziare ancora di più lo studio della musica nelle scuole, quindi fece questa cosa coraggiosa di iscriversi alle primarie del Partito Democratico nella lista di Veltroni nel 2007. Però poi dopo se ne uscì fuori dicendo che il partito era diventato tutt'altro rispetto a quello che lui pensava che fosse, e che la gente di sicuro si sarebbe stufata prima o poi, si sarebbe rotta le scatole, questo ha dichiarato. Un'altra notizia, lo sport, era un amante del calcio, giocava anche a scacchi, aveva condotto pure delle partite amichevoli con personalità di spicco dello sport in questione, ma era appassionato di calcio, nato a Roma nel 1921, quindi romanista, andava sempre a vedere le partite allo stadio, anche con Sergio Leone, il grandissimo Sergio Leone. Poi dopo ovviamente nella vecchiaia le guardava da casa, scrisse pure la colonna sonora dei mondiali del 1978 a Buenos Aires, in Argentina. Un'altra notizia importante, udite udite, c'è un asteroide che ha appreso il suo nome, si chiama 152288 Morricone. Ecco, queste sono notizie estive che potete, con un sorriso, raccontare di una personalità che va cercata musicalmente negli archivi, fatelo se non l'avete fatto prima, va ad ascoltata nei film, prendete tutte le informazioni che potete, questo è il momento suo, 91 anni, la sua morte, lo dico con allegria perché un artista così non muore mai. E poi in fin dei conti, 91 anni, con una tempra così forte, va bene così, dai. Ci sono tante altre morti al giorno per altri motivi, non voglio sminuire Morricone, assolutamente no. Però un artista così non muore mai. Ciao a tutti da Riccardo Autori, iscrivetevi al canale, arrivederci, grazie, a presto. Autore dei sottotitoli e revisione a cura di QTSS